Come ogni anno, la Fiera dell'Epifania, giunta alla 68esima edizione, ha rivitalizzato le vie del centro storico dell'Aquila. Nonostante la pioggia, turisti provenienti anche da fuori regione hanno fatto visita alle 380 bancarelle per fare regali o riportare souvenir a casa. Un surplus di presenze che ha giovato anche ai commercianti aquilani del centro, che hanno tracciato un bilancio nel giorno della fiera. Molti sono rimasti soddisfatti della buona affluenza, con turisti provenienti da Napoli, Frosinone e Roma. Non tutti i commercianti però sono rimasti soddisfatti. C'è chi ha riscontrato un vistoso calo delle presenze e delle vendite, dovuto in parte alla pioggia, ma soprattutto alla crisi economica che sta investendo il paese e in particolare la città dell'Aquila, a caccia ancora di una solita identità nel centro storico dopo il terremoto di sei anni fa.